Sì, abbiamo modificato il primo punto dell'impegno come segue, quindi la mozione impegna la sindaca, l'assessore competente a valutare una proroga al 31.3.2018 per tutti i canoni COSAP. I punti 2 e 3 che erano a dare opportune disposizione agli uffici interessati affinché vengano forniti agli operatori e dalle AGS chiarimenti indispensabili a gestire il passaggio delle vecchie alle nuove convenzioni e il punto numero 3 a controllare le convenzioni in essere con le AGS ed eventualmente introdurre degli elementi di premialità per quelle che gestiscono virtuosamente la cosa pubblica ponendosi come elemento proattivo nella gestione dei mercati sono rimasti invariati. Nell'esprimere il voto favorevole mio e della maggioranza su questa mozione rispondo anche al quesito del consigliere Fassina che parlava appunto della delibera 4 del 2017 o meglio il tariffario di Roma Capitale. Io in quel contesto presentai un emendamento che andava a modificare come dice appunto il terzo punto del dispositivo il tariffario a creare una differenziazione tra le AGS che consideriamo virtuose e quelle che eventualmente hanno avuto un comportamento diciamo poco virtuoso o non corretto ad esempio quelle che non hanno consegnato i bilanci. Quella modifica fatta diciamo con una certa fretta bisogna dirlo perché comunque bisognava provvedere alla risoluzione di un problema molto importante difettava un pochino forse nel criterio di scelta e su quello che ora stiamo continuando a lavorare giorno per giorno con l'assessorato e con il dipartimento per capire bene definire bene quali criteri possano applicarsi appunto a un abbattimento del canone superiore al 50%. Quindi con la commissione lavoreremo quindi con tutte le forze disponibili a collaborare su questo punto per arrivare poi a una modifica che vada a premiare le AGS virtuose o in difficoltà. Questo è l'intendimento.